Ciao Peppi, dove vai? Stai facendo una porta nuova. E che è? Faccio il treno? Ma no, qua è il treno, mi faccio fare di pasta perché oggi, voglio parlare con il rispetto, oggi ci ho mangiato come un burro. Che hai mangiato dentro l'antanello? Ma qua l'antanello, oggi ho venuto a trovare i miei figli. Ma che? Un mascolo. Eeeh... E che volta hai mangiato? Voglio... Noi siamo fatti nuocchi che non si è visto che n'altro. Ma allora non ti ho visto niente, se ti ho mangiato la scuola. Ma qua la scuola è un modo che ti dici che tu ti fai nuocchi che non si è visto che n'altro e ti ho mangiato un troppio. E voglio... Un troppio, ma hai mangiato la paglia. Mezzo. E' me che ho mangiato il grano che rispega che poi ha mangiato la paglia. E che ti ha mangiato? Che ti ha mangiato? Ah! Ehi! Come hai? Che ti non ci vuoi? Non ti vuoi. Ma sei curioso veramente? Io ti dico... Che ti ha mangiato? No? Che si mangia? Voglio... Oggi abbiamo fatto una pasta e fasola, ma... E la fatica? Ma che ti ha già rispondi? La fatica? E il progetto mi dice Passi e fasola e la fatica ti vengono. Ma ancora che? Ehi! Facciamo ancora che? Ma dai! E' un modo che ti dici, no? E... Passi e fasola. E poi... E poi... E poi... E poi... E poi... La fai una frattata... di lambaggione... Marrona ramatanica come la da pomodini! Perché? Se stai sconzando! Ma no! Ma che sconzando?! Quando si mangia le lambaggione fai ''bun bun''. Se torna tamborra. Ma no! Le lambaggione il raglio! Non è una sostanza che è necessaria. Tu pensi che una volta quando facevamo la terra c'è stata una scommessa che chissà di un'ordine che non ci credevano. Allora, io mi ero portato l'ambascio davvero, mi ero portato un boccaccio e mi sono mangiato, proprio sembra che non ero mangiato mai niente. Un giorno dopo, il giorno, non è temporale ancora. Non c'erano certi troni, ma ci sono troni che fanno veramente pagare. Ma perché se prendono le lampi? Ma no, ma quali le lampi? Se senti una pozza, qua voglio, ma il fumiglio è già profumo. Non c'erano il fumiglio. Ma pensi che c'erano? Ma mi erano telefonati da una casa di profumo. Che volevano fare? L'estratto di profumo che volevano chiamare un po'. E come volevano chiamare? Ma in francese si chiamava io? Non c'erano, non c'erano, non c'erano. Ma tu pensi quanta gente ci ha fatto per me quella roba ancora? E beh, voglio. Che ti credi che i profumo lo fanno? Se lo fanno, che tanta sostanza che noi non lo sappiamo. Ma poi che hai fatto? Non l'hai fatto più per contrattare. Ma qua sono gratis. Tornando, quando facevo un volontario, ci venivano una scommessa. Ma non sono venute un po' a mangiare le pezze tutte gratis. che le persone che non credevano che io non sostenivano da avvicinare una colpa e da un magazzino di quella roba che tu conosci. Non potessi andare davanti. Ma che vuoi parlare della merda? Non c'erano delle cose. Io volevo farlo. Ma te lo chiederei tanto, tanto che stai male. Comunque mi sono posto con il lavoro e mi sono pronta per accendere. Come mi senti che ho fatto questa roba? Ho capito il palco. Ho fatto una fiammata. Ma veramente... Ho fatto una fiamma. Sembra la fiamma di una draga. Però che succede? Un ritorno di fiamma? Che succede? Ho fatto un bel depilè. Sì dalla parte del forno che ha cacciato le cose e sì dalla parte del bordo. E' una cosa assurda. Però tutto sommato la gente sta scommessa. che io sono rimasta la bocca aperta. Ma sono morta dalla pozza. Ma no! Sono rimasta la bocca aperta dalla fiammata che ha fatto. E chi le dice? Ma che è una bomboletta? Una bomboletta? Una bombola grossa di pipì gas? Ha detto no! Tengo solo il pipì! E' un cazzo della treta. Che ti ha già fatto? E non. E' un cazzado. Un otto prego. E' venuta da mangiare e rimanendo il buono madonna. E' anche qui la buona bombola di gas. La tua cosa. Noi di seconda. Ti ho preparato tutto. Il padrone non crede. Quando vogliamo fare un cazzo della cena tu, un padrone su casa ti cazzo da mangiare con un gas. Che è un gas? il gasano il gasano è un prodotto che abbiamo tutti noi esseri umani e ma come si faccia poi leggerete la ricetta e voglio io sono sicuro che ora risparmiate pure sulla bolletta del gas pensi che ogni tanto si metteva con il tubo la pazzicchia da una parte da dentro del gas e da notare ai fornelli che ho cucinato vabbè a moledetta proprio una grossa diciamo che è uno scherzo ma si che è uno scherzo ma come ora non mi faccio il crocoso però è uno scherzo il fatto che in solito veramente la fiammata da chiamiamola in modo pulito il deretano da un magazzino da un magazzino ma non esageriamo a parlare un po' non esageriamo a parlare un po' di sporco e che magazzino? un magazzino della merda un pappagallo non mi fai luccare che la gente pone segno e che è? beh va bene allora ti vedi a porta nuovo il treno non lo prendi i biglietti non lo fai la strada è lunga ma se fai solo poteggiare eh sì ma perché stasera ti mangiate una volta raffreddata della meia è rimasta una pizza però non la mangio stasera non lo mangiare per creare e allora creare il repertorio è nato da commesso che so i fugi d'artificio come la batteria che è venuta a consulare beh io sono sicuro che si mi ritorno a caccia e fanno effetto ma ha consulato voglio ma chi è ma chi è che ho consulato 20 poi che consiglia consulati è stato il miglior proprio artista dei fuugi d'artificio di brosa e non credo che sta nata gente che con il superino perché ieri veramente era veramente in campo mostrì un canuccio e ma poi una ma ha detto una in un paese del segno che si chiamavano John e fosse mordino fino a fuoco d'artificio ma hanno fatto una faccia perché in nessuno Credo che hai proprio capito seguito perché stando che ci acc__ modi UNRE di sporato per il fuoco d'artificio di grigio di trarmi io qui si aveva fatto sgarrare e cosa li raccarr він? ha detto che uno si verrà fuoco di artifici, appunto i bussolotti che fuoco di artifici che vanno in aria. E io dovrei fare una spara pelle che corre lì, e io sono un po' di bussolotti di fuoco di artifici in un ucchia, con un ucchia cercata, la gente dice Evviva Giovanni, evviva Giovanni, evviva Giovanni! E io sono fuori e dice Evviva Giovanni a stupare il ricciofolo! Ora sono rimasti con un ucchia cercata, per i tappellare, e io sono un povera Cristo, ma l'ha prenduta la pensione? Ma che ha prenduta la pensione? Voglio che ora l'hanno posto con un ucchia e mi sembra il cuorcio del potomac, ma che non mi ha detto? Ma no, io non racconto che ho detto, vabbè, fammeneci, che ho il treno, non aspetta, ma se non le prendiamo, ma perché ho il treno non aspetta? Ma no, per dire, io volevo vedere come è il treno, la freccia rossa, la freccia bianca, la freccia nera, la freccia di indiana e la freccia di indiana è la freccia, la freccia di indiana, la freccia di indiana è la città, la freccia di indiana non è la scuola, non è la scuola. beh già capito tu fai pazzi e ti lascia tranquillo hai capito? ti saluti oh fatti avrei ogni tanto però se io mi facciare l'ambiente con i giorni che avremo ne hai mangiato e che cazzo, sarà che sei delegato questo uomo? no, non è delegato ma vabbè la stessa non ho un po' d'impressione quando si ritornano dal detrito mi sembra che stia prendendo un denaro se non scappano tutti i ragazzini e rimane solo il gallo che ha fatto il padrone va bene, ci sentiamo ciao, è stata buona se l'Ucraina la fede di quella fredda dell'ambiente lascia perdere e perché si fanno la guerra l'ambagione e ci metterà sai che concerti che non si tratta? beh facciamo un'altra volta lascia perderemo va bene, ci vediamo ciao, è stata buona ciao, 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 ciao